Domani Papa Francesco incontra il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Il Vaticano attualmente ha rapporti diplomatici con 183 Paesi e numerosi altri organismi internazionali. E' uno dei discorsi più importanti che fa il Pontefice durante l'anno, perché ha un forte sapore politico. E poi in questo caso, all'inizio del 2020, è ancora più importante, forse di tutti i discorsi che ha fatto il Papa ai diplomatici in sette anni di pontificato, questo sarà il settimo discorso, quello di domani è il più rilevante. Per la situazione che si vive, di venti di guerra ovunque, da un angolo all'altro della terra. Noi sappiamo già cosa pensa il Papa di questa situazione drammatica che ci preoccupa tutti. E sicuramente lo ripetirà domani. Dialogo e autocontrollo. Dialogo per incontrarsi, per discutere, per trovare soluzioni consensuali. E autocontrollo in un mondo in cui i politici mettono davanti agli interessi del bene comune i propri interessi piccoli e meschini.